Natto ha realizzato un prodotto a cui abbiamo assegnato un voto di 9.4 su un totale di 10 punti. Risulta il più venduto. Questi sono i suoi punti di forza. Ottimo come idea regalo. Robustezza. Facile da montare. Il prezzo di questo articolo, insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video. Questo articolo di Roba ha riscontrato una valutazione di 8.6 su 10 totali. Per questa categoria, risulta al momento essere il più votato con 622 valutazioni globali. Le caratteristiche principali sono. Ottimo come idea regalo. Robustezza. Facile da montare. Ottimo rapporto qualità prezzo. Trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video. Il voto finale aggiudicato da questo articolo di Infantastic è di 8.8 voti su 10. Risulta al momento avere il miglior rapporto qualità prezzo. I punti di forza sono. Leggero, stile, robustezza. Facile da montare. Ottimo rapporto qualità prezzo. Se ti interessa questo prodotto e vuoi saperne di più o semplicemente vuoi conoscere il suo prezzo. Clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Trudy. Con questo articolo si è aggiudicato un voto finale di 9.4 su 10. Al momento è il più esclusivo di questa selezione. Ecco le caratteristiche che lo contraddistinguono. Facile da montare. Robustezza. Ottimo rapporto qualità prezzo. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato. Grazie a tutti.